benvenuti a bordo di un'avventura subacqua senza tempo i relitti dello stretto di messina questo ebook è la tua guida esclusiva attraverso le storie affascinanti e i segreti sommersi dei relitti che giaciano nelle profondità dello stretto di messina un viaggio nel passato marittimo dove ogni relitto racconta la sua storia unica fatta di navigazioni epiche naufragi drammatici e incontri con la potente forza dello stretto il nostro ebook offre un'immersione virtuale nei dettagli dei naufragi con narrazioni dettagliate immagini successive e approfondimenti storici scoprirete la storia della motonave arturo volpe la tragedia del piroscopo america e molti altri segreti sommersi ma non si tratta solo di storie i relitti dello stretto di messina e anche una guida pratica per gli appassionati di immersioni e esploreremo insieme le sfide e le emozioni di immergersi in questi siti straordinari correnti potenti fauna marina spettacolare è un paesaggio sottomarino mozzafiati le immersioni nello stretto di messina offrono un'esperienza unica la nostra guida fornisce consigli pratici mappe dettagliate e suggerimenti per un'immersione sicura ed entusiasmante inizia il tuo viaggio subacue oggi con i relitti dello stretto di messina un ebook che unisce la passione per la storia marittima alla scoperta delle meraviglie sottomarine clicca sul link per esplorare le profondità e svelare i segreti nascosti sotto la superficie dello stretto